Ciao a tutti ragazzi, finalmente sono qui per assegnare la Steelbook di Hellboy al proprio vincitore Sì, perché abbiamo lanciato ormai da tempo il giveaway di questo pezzo Abbiamo sfruttato l'occasione dell'uscita al cinema del nuovo film dedicato a Hellboy Questo invece è il film di Guglielmo del Toro, Blu-ray Steelbook Abbiamo lanciato il giveaway sia su Facebook, dove abbiamo raggiunto i 93 partecipanti Sia su Instagram, dove abbiamo raggiunto i 36 partecipanti A ciascuno, a partire da Facebook, abbiamo assegnato un numero A partire dall'1, che è il primo commento su Facebook Al numero 129, che è l'ultimo commento su Instagram È uscito il numero 122 attraverso l'applicazione random.org Il sito di generatore automatico di numeri E appunto a cui ho dato questi estremi è uscito il nome di Il 122 che è abbinato su Instagram L'avevo trovato, vediamo se riprendo la lista In mano E ve lo dico subito Rullo di tamburi Simone Franceschini Complimenti Simone Franceschini Ti porti a casa questa Steelbook di Hellboy Ti contatteremo per farci dare i tuoi dati di spedizione Ma questo video non finisce qui Complimenti ancora Simone Ma vogliamo deliziare tutti voi col premio del prossimo giveaway Sapete cosa metteremo in palio la prossima volta? Maschera e libro di Pet Sematary Un'occasione molto ghiotta per avere due pezzi importanti in collezione Parteciperete?